Ciao ragazzi, ciao a tutti e bentornati, buon martedì a tutti quanti voi, martedì, cioè questa settimana qua ragazzi è veramente tremenda per noi amanti del calcio di Serie A, perché la sosta è lunga, ma gli argomenti nonostante tutto non mancano, perché oggi è uscita la lista UEFA. A parte ciò parleremo anche di tattica con il nostro Emi Scouting, ciao Emi. Ciao Belli, come va? Grazie per l'invito, questo pomeriggio ho detto chissà, c'è una partita a Fortnite con gli amici, no, bianco nero e si vola, no, si vola, si vola, meglio qua, meglio qua. E infine Romeo che è ancora qua ragazzi, non molla un centimetro, le ferie le stai rimandando. Sì, sì, vedi a partire domani. Ciao, ciao Lello, ciao Emi, ciao chat, a parte che domani il BN sarà a Venezia e lo scoprirete domani seguendoci, collegamenti, video, domani, sta a cento? Eh sì, però è molto risicato, è ancora. Quindi finché non arrivi tipo a centomila e ottantaquattro fessenti. Esatto, non dico un cazzo. Ascolta Emi, tiraci fuori questi tuoi dati, questa tua analisi tattica. Dai, parliamo, iniziamo con qualche dato così. Io mi appida a te, tu mostra e poi ne discutiamo insieme. Dai, qualche dato post Juve-Roma, così facciamo capire che ora divento serio, prima scherzavo, se no poi mi linciano. Qualche dato ad hoc, va, ve lo sbatto così. Allora, tutti parlano di Sto Tiago Motta, chi dice passo indietro perché c'è stato meno possesso, in Juve-Roma il possesso è stato di un punto sotto rispetto a quello della Roma, 49%, per occhio ai passaggi, perché la Juve, i passaggi, l'impostazione, la costruzione, anche lì qualcosa in meno rispetto alla Roma, 475 passaggi della Juve, 487 della Roma, che quindi, brava, complimenti secondo me, che vanno fatti alla squadra giallorossa per quanto riguarda l'andare a bloccare l'iniziativa della Juve di Tiago Motta. Juve di Tiago Motta, che da questo possesso è riuscita, sì, ad effettuare poi otto tiri, però solo uno, di questi otto, nello specchio della porta. Come dicevamo anche da te, Anto, la questione della fase di non possesso con questo 80% di contrasti riusciti, comunque da sottolineare. La Roma, ad esempio, ha vinto il 67% dei contrasti, che è un dato buono. L'80% è tanto, perché vincere il 90% vuol dire giocare contro il Granada di mio figlio che c'hanno tutti i sei anni. Lì vinci il 90% e il 100% dei contrasti. Quindi, per quanto riguarda l'impostazione, così così, secondo me i complimenti vanno fatti alla Roma e la Juve ha sofferto poi per quanto riguarda i tiri. Se volete, io ho un grafico dei tiri, ce l'ho proprio qua. Vedete come la Juve ha tirato una volta in più rispetto alla Roma, nello specchio della porta, credo solo il tiro di Vlaovic. Quindi, ha trovato diversi tiri all'interno dell'area avversaria, i tiri arancioni sono quelli della Juve. Quindi, brava comunque la Juve, concettualmente, ad arrivare là, brava a concedere tanti, o meglio tanti, una buona parte dei tiri concessi provenienti, per quanto riguarda la Roma, dall'esterno dell'area di rigore. Quindi, qua possiamo vedere di nuovo come in fase di contrasto la squadra è stata brava, in fase di finalizzazione ha avuto qualche problema, però concettualmente la squadra è arrivata a tirare all'interno dell'area avversaria. Se proprio voi volete alleccarvi i baffi, qui c'è la mappa di calore della Juve, dove si vede, innanzitutto, che ha giocato sì centralmente, ma senza avanzare troppo. Quindi, tanti scambi tra i difensori centrali, che poi non si sono trasformati in un possesso acceso nella zona centrale del campo. E, se volete, magari poi lo lasciamo per dopo, però guardate offensivamente. A destra c'è un con Seisao che, evidentemente, ha spinto di più. A sinistra la spinta è stata quasi nulla, offensivamente parlando, e lì entra in gioco il concetto di varietà in fase d'attacco. Questo è quanto, torno io, per la gioia del pubblico femminile, però... Effettivamente si percepiva comunque che, guardate la partita, che dall'atto di Hildiz non si sfondava mai, eh. Non l'abbiamo mai sfondato. Quindi questo, dati che, secondo me, parlano chiaro. Una Juve normale, concettualmente, ha mostrato cose, è mancata lucidità, qualche passaggio che doveva essere effettuato prima, secondo me. Poi successivamente abbiamo un'azione, ve la faccio vedere, a bocce ferme, eh, YouTube, col copyright qua. Non si scherza. Quindi, quindi sì. Non so se voi i dati hanno sorpreso, se li avete letti, se li conoscevate. Guarda, no, io li avevo già visti, anche con te, ho visto anche il report della Lega Calcio. La cosa che mi ha particolarmente, poi dal vivo, più che dai dati in generale, è la staticità nel possesso, cioè nel movimento senza palla della Juve. Quando avevamo palla noi, c'era poco, poco brio, c'era molta staticità. Poi brava anche la Roma, a tappare ogni linea di passaggio, ogni situazione. Però, insomma, è stata una partita dove si sono annullate. Rome, hai altro da aggiungere o da chiedere? No, vedendo anche la hit map della Juve, però tanta fatica, eh. Cioè, tanta fatica in fase di costruzione, otto tiri, di cui solo uno nello specchio. Complessivamente, ragazzi. Vuol dire che è stata una partita dove hanno dominato le difese, eh. Ma a un certo punto, no, nel primo tempo, più che i dati, anche io dallo stadio, ho avuto la sensazione che non riuscissimo a prendere con il giusto timing. Eravamo sempre fuori sincro, Pellegrini tra le linee ci dà fastidio, hanno lavorato bene sulla catena di sinistra, poi hanno lavorato molto bene anche su quella di destra, pur non sfondando, ma Bangula ha faticato in fase di non possesso, quindi Cabal si è ritrovato spesso e volentieri uno contro due. È stata una partita tosta, però non siamo crollati, questo è un dato positivo, e anzi, attraverso l'identità e il gioco, nella ripresa abbiamo provato addirittura, abbiamo provato a vincerla. Quindi devo dire che, vabbè, è un punto che fa capire come si debba lavorare molto, ci sono delle cose che stanno riuscendo, altre che vanno decisamente perfezionate. Però Emi ti chiedo, da tecnico quale sei? Il fatto che la Juve nelle prime tre gare ufficiali abbia preso zero gol, te l'aspettavi anche in relazione a quanto visto nel precampionato? No, no, onestamente no. C'è il classico discorso, ora che si inizia a far sul serio, qualcosa devi concedere, non è che gli avversari giocano in ciabatte, invece tanto di cappello, perché è una Juve che verrà, anche nel corso dei mesi, costruita per avere il possesso, e se parte già da una buona base, per quanto riguarda la fase di non possesso, o avercene di situazioni così, non voglio dire che ora Tiago Motta si può rilassare, siamo bravi difensivamente, non lavoriamoci più, no. Però, e il dato di prima, 80% di contrasti vinti sono tanti, c'è la bravura individuale, magari si può parlare di Gatti, che ha fatto benissimo per quanto riguarda quel fondamentale là, però veramente molto bene, una fase di non possesso con questo pressing offensivo non troppo avanzato, dove aspettava la Roma, per quanto riguarda i primi metri, in fase di impostazione, per poi attaccare e creare scompiglio, quindi c'è un pensiero difensivo che sta funzionando e mi aspetto che venga mantenuto, per poi migliorare la fase di possesso, inizio, sviluppo e finalizzazione. Gatti, Emi, dove lo trovi migliorato rispetto all'anno scorso, o a due anni fa? Che evoluzione ha avuto, secondo te, come calciatore? Io credo che Juve Roma poi sia stata la partita migliore, come ha detto anche Romeo ieri, di Gatti, da quando è alla Juventus, una partita dove è stato impeccabile, nelle letture, dove magari era un po' più peccaminoso l'anno scorso, qualche lettura tattica gli sfuggiva, però secondo te dove è stata l'evoluzione di questo giocatore, la principale, quella che ti salta all'ucchio? Sì, l'attenzione, per quanto riguarda la lettura, secondo me è fondamentale. Io lo ricordo, lui proviene dal Frosinone? Frosinone, di Giosso. All'epoca io lo segui, lo analizzai, e a me non piaceva, per quanto riguarda sta tendenza, ad esempio di farsi scavalcare dalla palla. Tu dici, un difensore così alla Juve avrà vita breve. Infatti io sarò onesto, io pensavo che quel miglioramento, se non fosse avvenuto, è... e invece è bravo, per quanto riguarda l'attenzione, la lettura delle traiettorie. Ti ricordi il gol che prende la Juve a Monza, con Gatti, il gol di Grittkier? Sì. Proprio quello che dicevi tu, presa le spalle, il contromovimento, sbagliato. Da quell'errore lì, alla performance di Juve Roma, c'è un lavoro pazzesco. Infatti, complimenti, a lui innanzitutto, ma anche a chi ci ha creduto, perché ora è facile venire qua e dire io lo sapevo. No, 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 no. Io pensavo che qualche problema il ragazzo, insomma, lo aveva. Lo ha dimostrato, però lo ha migliorato. Quindi bravo a... Sì, qua, bisogna fare anche elogiare il lavoro di Allegri, che comunque ci ha lavorato. Sì, sì. Perché se ora ti aggomotta, può fare lo step successivo, perché la base è comunque solida. E sappiamo che Allegri sulla fase difensiva è uno molto attento. Ora ci sta lavorando bene Tiago, a me quello che è impressionato è il livello tecnico di Gatti in Juve Roma. Ha fatto due o tre cose. Una, si è lanciata la Lucio, no? È andato a spaccare le linee, ma con un controllo orientato della palla devastante. Io sono d'accordo con Temi, non ci credevo tantissimo. Inizia a crederci ora. Voglio 20 partite, così, per poter dire... Giusto. È fatta, cioè un giocatore, no? Può essere un titolare da Juve, però... Lui ha dalla sua una cosa che gli altri non hanno. una fame incredibile. Perché tu, quando hai fatto nella tua vita il carpentiere, no? Con tutto rispetto per chi esercita questa professione, ma che non è il calcio, e allora capisci che sei un privilegiato, che eri al posto giusto, al momento giusto, e che si provava a cavalcare la fortuna. Però, capisci il sacrificio, e allora lui ha fame, lui ha fame. Posso chiedere a voi, invece, che magari conoscete di più le dinamiche interne, magari, ma sta fascia di capitano, invece, a me è sorpreso, sempre a gatti, solo in assenza di, magari, Danilo? Io gli avevo fatto proprio questa domanda a Tiago, in conferenza stampa di presentazione, se sarebbe stata una fascia itinerante, no? O invece con uno fisso. Anche a Bologna, tra l'altro, adesso non avevo studiata la lista dei capitani, 8-9 capitani, sì, però, io mi ricordo che il primo capitano del Bologna nella passata stagione è stato Dominguez, che poi qualche giorno dopo è stato venduto al Nottingham Forest, cioè, per far capire com'è ragione a Tiago Motta, no? Io credo che lui, Tiago, abbia voluto responsabilizzare Gatti, qualcuno mi ha detto, però, vedrai che, tra i tifosi, mi ha detto, vedrai che a un certo punto però la fascia finirà a Copp e lì rimarrà, come è successo con Ferguson, perché Ferguson, a un certo punto l'anno scorso era il capitano del Bologna, si fa male e diventa successivamente, se non sbaglio, Froiler. E ci può stare, però, oh, se Gatti gioca così con la fascia, lasciamo gliela tutto l'anno, chi se ne frega. Guarda, poi secondo me le scelte nello spogliatoio sono particolari, cioè, noi non le possiamo capire, non bisogna capire quanto sia positivo nella quotidianità, negli allenamenti, eccetera. La scelta è stata fatta, secondo me, per una questione di empatia che mana a questo giocatore nei confronti dello spogliatoio stesso. Poi sono valutazioni di là e io non entro in merito. Sono molto più d'accordo comunque con un criterio meritocratico legato al carattere o allo standing in campo, piuttosto che a una questione di anzianità. L'anzianità, secondo me, non crea un capitano, non fa un capitano. Banalmente, Alessandro, l'anno scorso, era un giocatore che aveva tantissime presenze, non lo reputavo il mio capitano, cioè, non lo vedevo incarnare quella figura. Per cui sono più d'accordo con una scelta assoluta. Sì, ma fermo restando che i capitani della Juventus sono Scilea, Del Piero, cioè, sì, però già Buffon per me, sì, che lì, cioè, bravo, cioè, il capitano per me è una figura iconica. E come dire, la fascia di capitano al mio l'ha avuta anche Ambrosini, ma se parli con i milanissi ti dicono i capitani sono Paresi, no? Il capitano è il capitano, raga. Ma ad oggi chi la daresti tu? Cioè, a livello tuo, sei l'allenatore a livello di simpatia personale, a chi daresti questa fascia? No, non devi fare a livello di simpatia, il capitano è una figura importante, carismatica. No, che stimi, che dici, incarna quei valori. Ma che giochi? Che gioca, certo. Dusan? No. Ha dei atteggiamenti ogni tanto perché mi danno fastidio a me Dusan. A volte positivo, a volte sclera. Secondo me Copp potrebbe essere una bella chiamata, sai? Quello che ha fatto per me la Ju. Io non l'ho mai visto, io quando ho visto il primo giorno. piaciuta la cena dove alza con si sa o dal falletto che subisce. No, ma i primi momenti che ci ha mostrato Juventus Creator Lab di Copp, io non ho mai visto uno così felice di andare alla Juve. Cioè, come ha guardato la maglia, quante volte ha ringraziato, questo mi sembra che davvero, no, gli hanno chiesto, animale preferito la zebra, colore preferito bianco-nero. Sembra veramente nato in curva sud. Si chiedevano cosa prendono nei comuni, la foto di Boniperti diceva direttamente, hai visto il posto del Presidente della Repubblica. Grazie Eugenio, bravo, tagliati i capelli e cresciuta. Grazie Eugenio. Allora, intanto ragazzi vi ricordo ovviamente che con l'abbonamento avete sempre la possibilità di godere dei podcast matutini di Corbo, ma in questo caso c'è Aiello che lo sto sostituendo alla grandissima. Abbiamo una redazione fortissima con un direttore altrettanto forte. la panchina lunga, la panchina lunga. Poi c'è il podcast del direttore nel fine settimana e quello redazionale e poi avete la differita totale perché poi io metto, andremo a mettere degli spezzoni qua su YouTube, non mettiamo la live intera, quella rimarrà a disposizione degli abbonati che per un motivo o l'altro non possono goderne in real time. Per quanto invece riguarda Dusan, qual è l'evoluzione Emi dal punto di vista tattico, tecnico che deve fare. Cioè lui è sempre questo guado potenziale fortissimo o sopravvalutato e sta nel mezzo. Deve scegliere da che parte andare. Mi deve dare una lucidata alla giocata finale. Ovviamente gol su gol su gol e anche proprio scelta della giocata, la decisione finale è lì che attualmente sta sbagliando con Allegri secondo me proprio non veniva messo nelle condizioni adatte di poter far bene. Veniva incontro oh Antone quante volte scusate ne abbiamo parlato e là non deve venire e là non deve venire e là non deve venire a ridosso del centrocampo puntualmente andava là. Ora fa molto più lavoro offensivo di profondità e mi aspetto che a partire dalla ripresa possa possa dire la sua altrimenti altrimenti dura giustificare ancora questo grande fenomeno queste grandi potenzialità che secondo me a me piace tanto Vlaovic però ora lo deve lo deve dimostrare deve essere più lucido sotto porta. Guarda qualcuno dice Vlaovic meno 8K in costruzione meglio è faccio un esempio banalmente Holland nel City non è così tanto coinvolto nella costruzione della manovra stessa. Tu hai visto contro l'ultima partita contro che hanno giocato il City contro Aston Villa può essere? allora no col West Ham ah col West Ham mi confondo no non è vero non è vero non è vero non è vero ma che ne sta col Pogoboli con chi ha giocchietto la Juve col West Ham col West Ham ha fatto tre gol e ha toccato pochissimi palloni il secondo credo gli arriva la palla stop e tiro gol basta 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 poche ghiacchiere in costruzione effettivamente sono d'accordo con il ragazzo che ha commentato prima non è un attaccante da coinvolgere noi stiamo sottovalutando comunque un aspetto ragazzi che abbiamo fatto la prima partita con tutti assieme cioè ci vorrà tempo è chiaro che io sono d'accordo con coloro che dicono come fa per esempio gol Vlaovic a Verona penetrazione centrale in via verticale palla giusta tra tre giocatori e tanti saluti quello deve fare Vlaovic mette il corpo benissimo perché in quel frangente mette il corpo cioè Vlaovic noi dobbiamo utilizzarlo in verticale non spalle alla porta spalle alla porta ci devono presentare ci devono occupare ci devono occupare Azic quando arriverà soprattutto adesso Ildiz Cop Nico cioè noi Vlaovic dobbiamo imparare anche a servirlo sotto la lente di Tiago Motta qualcuno ha detto le prime tre rappresentano una sorta di precision aggiuntivo il vero campionato la vera stagione inizia dopo la sozza io sono totalmente d'accordo e se non sbaglio la stessa cosa l'ha detta Pep Guardiola nell'ultima conferenza quindi ragazzi stiamo prendendo anche un po' di conoscenza tra di noi e questi hanno fatto tre allenamenti tutti assieme anzi due credo e alcuni non avevano neanche minuti perché Cop non aveva autonomia Nico aveva dieci minuti con Sessao forse era quello un po' più avanti ma rientrava da un infortunio è normale che noi Vlaovic oggi lo giudichiamo per la partita con la Roma anche per gli errori tecnici per esempio quella palla che sbaglia che non dà con Sessao è un errore per me madornale però anche da capire che è una frazione di secondo ovvio che dobbiamo comprendere come valorizzare Vlaovic ulteriormente e lui deve esaltare i suoi pregi perché altrimenti se vuoi fare un po' tutto vengono rimarcati invece soprattutto i difetti oh se volete ho una situazione da farvi vedere vai faccio vedere vediamo se se l'angarro la la qualità comunque per non tornare sui discorsi che abbiamo già visto prima qui il pressing della Roma che ha forzato spesso i centrocampisti della Juve a tornare indietro volo qui corridoi che diceva anche Antonello no? che qui c'è Illiz non so se vedete che chiede palla con le braccia dammela 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 ma è impossibile da servire per volare a Vlaovic qui la Juve forzata a giocare esternamente dove però poi al centro c'erano queste voraggini vi ricordate le immagini fermo immagini con Allegri è un po' la stessa cosa se rivista contro la Roma con tutte le scusanti del caso attenzione qui alla fine dove è coinvolto Vlaovic non so se ricordate questa azione dove c'è il cambiato tra l'altro la freccia al centro fa notare proprio un grandissimo contromovimento di cambiato che manda al bar il suo marcatore per poi spostarsi in avanti ecco qui Vlaovic è il giocatore che gli offre il passaggio non dico che che è una giocata sbagliata per quelle che sono le qualità di Vlaovic ci sta una giocata del genere ma poi al centro manca il vero terminale d'attacco se notate c'è Cambiaso a destra che sta per passare la palla e poi ci sono Vlaovic e altri due compagni di squadra che va bene come densità la Juve questa roba con Allegri non la faceva però Vlaovic attraverso quel passaggio si è quasi tagliato fuori dall'azione per quanto riguarda poi la finalizzazione quindi c'è una difesa della Roma ben schierata quello Emi guarda questa diapositiva è la fotografia di come la Roma abbia difeso bene ma non si è neanche buttato Vlaovic nello spazio che c'è tra Anglini e Mancini secondo me lui voleva fare il contromovimento cioè tipo poi farsela mettere sul sinistro ok infatti si vede si vede Lello che tu finché giochi da picchiare in campo va bene con una scienza calciostica poca ma vai a fare il culo lo hai il movimento giusto secondo me cioè che cosa stai dietro anche perché Cambiaso nel frattempo che fa la controsterzata e il 4 ti viene addosso subito eh però se tu se tu lo fai andare no 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 una punta come contro movimento a parte che è una situazione molto difficile perché sei 1 contro Vlaovic è una pressione subito di 3 se vogliamo quindi questa è una situazione molto difficile noi però qui riempiamo male l'aria Emi siamo distanti arriviamo tardi sul secondo palo cioè lì è come un treno sul secondo palo adesso non so chi ci fosse a tagliare penso a Bangula Cabal Cabal eh allora devi andare dritto per dritto lì sì e per questo dicevo che alla Juve manca questo tipo di lucidità perché i concetti comunque anche in questa azione si vedono con Allegri questo discorso non esisteva andare a riempire l'aria poi ce ne sono 4 con Allegri ne avevi 2 forse massimo 3 qui già ce ne sono 4 però ovviamente manca lo step finale riempire l'aria correttamente come dicevi attaccare il secondo palo magari Vlaovic che dopo il passaggio fa il classico dai e vai magari si propone lì in quel buchetto che non è facile però manca è troppo rapida manca questa roba no no questa è una azione molto difficile un allenatore comunque sai come ti cosa ti direbbe che Cabal dovrebbe essere più avanti ad occupare la zona del secondo palo Vlaovic deve buttarsi in mezzo tra cui di difensori e chi è quello là un bangulà probabilmente che è lì all'altezza del dischetto dovrebbe tagliare lì sul dischetto verso Vlaovic per ricevere il rimorchi questo è il movimento che dovrebbero fare tutti e tre ci fu stato un minimo di sincronismo sì comunque era difficile non era tanto tanto difficile anche perché si è trovato Cambiaso con la palla lì e tutti erano messi male quel contro movimento ragazzi se vi capita l'azione riguardatelo perché è veramente tanta roba io per abitudine guardo i giocatori distanti dalla palla se rivedete l'azione è tanta roba quindi i concetti ci sono vanno smussati sì comunque ragazzi adesso non voglio fare il difensore di Vlaovic anche perché non mi risulta che sia il suo avvocato nelle prime tre due le 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 ha fatte bene perché col Como prende due falli un annullato due gol sfiorati a Verona fa due gol quindi mi sembra che ci sia sempre un po' quasi gusto a criticare Vlaovic ogni volta che sbagli io dico anche un'altra cosa e l'ho ripetuto già tante volte nella passata stagione se noi siamo andati in Champions dopo una seconda parte è abominevole da retrocessione lo dobbiamo soprattutto a Vlaovic gli gol che ha fatto pesanti a Frosinone a Salerno cioè un giocatore che nella passata stagione ha davvero salvato la Juve quindi sicuramente ci sono delle situazioni in cui non so neanche più se migliorerà ragazzi perché siamo sempre a ripetere le stesse cose su certe situazioni ormai il tempo passa però noi proprio conoscendole conoscendo queste situazioni dobbiamo cercare di valorizzarlo in verticale esatto quanto secondo voi il Copp Maniers potrà aiutarlo in questo miglioramento nei movimenti perché Copp vede calcio tanto tanto secondo me lo aiuterà molto e beh ma la palla che gli dà il Dizza a Verona è una palla che Copp te la può dare sempre sì esatto esatto ma anche secondo me dobbiamo adesso abbiamo preso Nico che è uno dei più forti di testa in Serie A ha tantissimi gol dobbiamo anche crossare esatto giusto e lì io sono curioso di vedere la Juve perché con Seisawa ad esempio è vero che è bravo palla a terra bari centro basso però i cross buoni buoni però non mi aspetterei chissà quali cose poi di nuovo felice di essere smentito come con Gatti però per quello che ha fatto vedere prima sempre un bottino scarso di stagione in stagione poi per quanto riguarda gol e assist è vero che per fare gli assist hai bisogno di chi poi metta dentro la palla quindi magari lì la tendenza può essere invertita però sono curioso sono curioso perché Nico è bravo quando la palla sarà all'altra parte però all'altra parte si deve effettuare la giocata giusta e quindi secondo voi le ali quali saranno? si può parlare di ali titolari con tutti questi nuovi arrivi io vi dico che secondo me se c'è Milik Nico può fare Silvice Vlaovic e magari nel leggero sarà il vice Vlaovic però quando può lo schiera a destra o anche a sinistra arrivo a dirti a sinistra sì perché secondo me Nico può giocare anche tanto a sinistra in parte che l'ho già fatto lo Stoccarda giocava là lui è Mancino a Firenze è stato messo sull'altra fascia piede invertito insomma anche con se sa qualche partita può fare a sinistra sì non abbiamo le ali titolari abbiamo un parco ali anche in base alle caratteristiche degli avversari di partita in partita che Agamotto sceglierà e vediamo anche quale sarà se ci sarà la crescita di Bangula che nelle prime due ha fatto molto bene alla terza ha fatto male ma si è alzata l'asticella affrontato una delle squadre più competitive del campionato quindi scusa scusa vai no no vai immaginatevi però questi quattro offensivi tutti insieme Kopp Nico Ildiz Vlaovic qualità ce n'è Ildiz che può partire da sinistra Kopp che sicuramente scambierà tanto con gli esterni da una parte dall'altra perché ha la tendenza a consentire all'esterno di buttarsi dentro e Vlaovic secondo me sono quattro forti 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 che gli consentono anche di avere una certa malleabilità tattica nelle rotazioni nelle risparmiarli prima di certe partite è stato un mercato intelligente da quel punto di vista sono d'accordo sì alcuni sono scommesse cioè dobbiamo sperare appunto che Consessao faccia bene che lo stesso Nico in una big big faccia altrettanto bene che Bangula la possa crescere cioè sono tutti di prospettiva tutti i giocatori che piacciono a Tiago molto altrimenti banalmente non sarebbero arrivati ma bisogna lavorarci ci aggiungo anche lo stesso Aziz sulle caratteristiche di questi ragazzi l'unica certezza è Copp che però anche lui quando un giocatore esce dal sistema Atalanta è sempre un po' un enigma speriamo che non lo sia perché ci abbiamo investito anche i soldi per i prossimi 150 anni eh prime prezioni su Bangula a te che vedo ti fa sto ragazzo a me allora quando un ragazzo ha voglia e lo fa vedere è già parte già avvantaggiato rispetto agli altri quantomeno rispetto ai pari età tecnicamente è vero che ha fatto vedere cose positive assist no? assist e gol l'ha fatto in queste giornate certo? gli si è procurato anche un rigore a Verona quindi ha fatto bene sì da smussare anche lui quando viene troppo basso ha sbagliato qualche controllo di troppo qualche passaggio però non so se ho di nuovo la mappa di calore mamma mia sotto mano però vedete contro la Roma lì a sinistra offensivamente inesistente vuol dire che ha avuto più difficoltà come è giusto che sia eh questi ragazzi devono sbagliare per poter crescere però c'è una differenza per quanto riguarda l'occupazione delle zone dal punto di vista offensivo che è netta con un Consei Sau che nemmeno era al top però vedete che gli è mancato qualcosa quindi prime impressioni positive però non bisogna credere che il ragazzo è fatto e finito e che può garantire grandi prestazioni durante tutto l'anno va va giudicato tra una stagione tra un paio di stagioni però la base di partenza c'è